Ben ritrovati con la storia. Oggi parliamo dell'ultimo doge della Repubblica di Venezia che fu Ludovico Manì in occasione dell'anniversario della caduta della Repubblica avvenuto il 12 maggio 1797 e questo doge fu ritenuto irresponsabile. Fu proprio così e allora conosciamo Ludovico Manì che nacque a Venezia nel 1726 da una famiglia ricca, influente, ebbe una solida formazione culturale, frequentò il collegio dei Gesuiti. Sinta giovane si dedicò alla vita politica, venne eletto podestà, podestà ricordiamo una sorta di sindaco nelle città di Vicenza, di Verona e poi di Brescia e amministrò molto bene, aveva capacità molto elevate. Poi fu nominato anche successivamente procuratore di San Marco. Questa carica era la seconda dopo quella di doge, quindi come vediamo una carriera tutta in salita, una carriera molto brillante. E arriviamo alla nomina, alla elezione di doge nel dicembre 1789. Era un periodo difficile nel quadro europeo, c'era veramente una situazione complessa, la Francia alle prese con la rivoluzione francese e poi Napoleone. Napoleone che voleva conquistare stati per allargare il suo potere e tra i suoi progetti c'era anche l'occupazione della Repubblica Veneta, appunto per sottrare ricchezze e poter continuare nelle sue guerre di conquista. La Repubblica nel frattempo aveva dichiarato la sua neutralità, ma Napoleone se ne infischiò di questa neutralità e cominciò a minacciare. Abbiamo visto nelle precedenti occasioni le Pasque Veronesi cosa sono state, ma Napoleone inizia a mandare lettere minacciose al doge, ma anche a tutta la classe dirigente, che voleva che cosa? La trasformazione del governo veneziano in municipalità, in modo tale da prendere il potere e gestire il potere stesso. Era un momento così di grande perplessità, destopro preoccupazione, ma ci fu un altro fatto importante. Il 18 aprile, sempre dello stesso anno, a Leoben, una città austriaca, ci fu un concordato tra l'Austria e Napoleone, con il quale Napoleone chiedeva di acquisire Belgio e Lombardia in cambio della Repubblica Veneta. E così questo progetto si avverò, in quanto minacciava sempre, come dicevamo, con lettere e il doge aveva paura, temeva le canonate, la violenza di Napoleone che poteva distruggere la città. Il doge fu lasciato solo in quel momento, molto isolato, una classe politica un po' che si era dispersa e lui ritenne opportuno convocare il maggior consiglio, una sorta di Parlamento, e mettere ai voti la richiesta di Napoleone di trasformazione appunto del governo in municipalità. In quella seduta non c'era nemmeno il numero legale, però la votazione andò avanti lo stesso e 538 si decisero per l'accoglienza della proposta di Napoleone. Così, dopo tanti secoli, undici per l'esattezza, la Repubblica cessò di esistere. Fu uno sconvolgimento generale, la città venne saccheggiata, invasa dall'esercito francese, ci furono sottrazioni di opere d'arte molto importanti, simboli distrutti, poi ancora i cavalli furono portati a Parigi, fortunatamente ritornarono poi nel 1815 e poi ci fu un fatto che scioccò veramente la città e fu l'incendio del Bucintoro, nel quale appunto trasse molto oro appunto per le casse francesi. Ma ritorniamo al nostro doge accusato appunto di grandi responsabilità. Vero o meno, una forte responsabilità la ebbe senz'altro, per natura era un uomo debole, di carattere debole, però nei quasi dieci anni di Dogado doveva sapere tenere unita la classe politica, doveva costituire un esercito perché la dichiarazione di neutralità non era più sufficiente e quindi doveva essere più presente, più determinato, più deciso. Ma c'è un aneddoto che lo raccontiamo al momento dell'elezione, che lui non voleva fare il doge per la verità, un patrizio ha detto «I gaffato dose, on furlan, la Repubblica si è morta» e quindi c'era già una previsione nefasta di quello che sarebbe stato il ruolo di questo personaggio. Nel bene e nel male viene ricordato e quindi anche noi abbiamo voluto così dare un po' di conoscenza di questo personaggio che è passato alla storia per i motivi che abbiamo detto.